Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo sul canale di Art Music Channel. Benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi mostrerò tutte le note musicali, come si posizionano sul piano. Allora, iniziamo col Do, che è questo. Si fa una linea, un pallino e un trattino. Re sulla seconda. Mi fa so la si e il Do alla finale. Poi la terza è sulla terza riga. No, è sulla seconda. Poi la quarta è sulla terza. No, sulla si, la terza. Poi la quinta è sulla sesta. Adesso vi mostrerò come si suona. Allora, facciamo il pianoforte. Si fa al secondo Do, Re, Mi, Fa, Sol. Saltate due. La, Si. Saltate tre. E Do. Qua, su questi neri, si fa Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Do. E Do, il secondo Do. Si fa così. Ciao, al prossimo video! Ciao, al prossimo video!